ciò che siamo ci ha portati qui la ricerca della libertà ci ha portati qui e nel nostro dna innoviamo perché nella nostra natura nuova Jeep Grand Cherokee con Jeep Free a interessi zero oggi paghi la metà nessuna rata per due anni e poi sei libero di restituirla quando si dice tutto per la casa sembra semplice in realtà in realtà da Valcolor è proprio tutto più facile carta da parati, moquette, materiali per decorazioni, piccola ferramenta, colori, vernici e tanto 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 altro e cosa dire dell'arredo e dei complementi d'arredo trovi mille idee e tutto ciò che può rendere viva la tua abitazione con originalità e buon gusto Valcolor, frazioni La Grenade 51, Asar, Aosta Proprio vero, Dava il color, non manca niente Come può il design di un'auto darci sensazioni di guida come queste? Con un volante ridotto, con un cruscotto più alto per tenere alto lo sguardo e semplificando per arrivare all'ergonomia pura così non ci sarà più distanza tra la superficie della strada e quella della nostra pelle Voilà Nuova Peugeot 308, design for eye sensations Peugeot Musica 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 Grazie a tutti. L'argomento di questa puntata di Mondo Agricolo in TV è la sicurezza alimentare. Cosa sapere? Come acquistare? Come leggere le etichette? Ne abbiamo parlato con i nostri esperti. Alessandro Sezian, medico veterinario, dirigente USL, prodotti di origine animale è un po' il suo ramo. Come sono i vostri controlli, i vostri interventi? Come vi muovete in Valle d'Aosta e quali sono le richieste soprattutto che ci sono per avere il vostro intervento, il vostro parere e il vostro controllo? Allora, il consumatore deve sapere che quando ha un piatto davanti a sé, metà degli alimenti di solito che consuma sono alimenti di origine animale e al controllo degli alimenti di origine animale è deputato il servizio veterinario della ASL. A livello nazionale, Ministero della Salute, poi ci sono le regioni e poi ci sono le ASL. Quindi noi operiamo sul territorio della Valle d'Aosta controllando sia coloro che producono gli alimenti in stalla e poi tutte le fasi della trasformazione dal macello al caseificio, la lavorazione delle carni, fino alla distribuzione al consumatore, quindi grande distribuzione organizzata, ma anche piccole macellerie, pescherie e quant'altro, produttori di miele, chiunque. Quindi controlliamo sia le filiere corte che le cosiddette filiere lunghe, quindi gli alimenti prodotti in loco, ma anche gli alimenti che arrivano dall'esterno e anche dall'estero, addirittura da oltre comunità europea e poi verifichiamo che questi alimenti siano sicuri dal punto di vista della salubrità e quindi della sicurezza per il consumatore. Abbiamo anche una parte di controllo su quanto è la parte, diciamo così, di tutela del consumatore, anche se in Italia questo tipo di tutela è gestito essenzialmente da altri enti come l'Ufficio Repressione Fodi, il NAS e tutta una serie di altri enti. Noi abbiamo più, come possiamo definirla, un'attività di controllo sulla sicurezza dell'alimento, cioè che l'alimento non faccia male al consumatore. Per arrivare a stabilire che l'alimento è idoneo per essere messo sul mercato, quali attenzioni avete? Un esempio che vogliamo portare a chi ci ascolta. Per quanto riguarda il controllo interno valdostano, grossi problemi forse non ce n'è perché siete un po' spassi su tutto il territorio e i vostri controlli avvengono. Ma per quanto riguarda i prodotti che vengono praticamente o dall'esterno o da altre regioni, qual controllo è più capillare, va a campione, come vi muovete? Allora, in passato il controllo era gestito solamente dallo Stato. Cioè lo Stato, in questo caso gli ispettori, andavano, facevano dei campioni sul territorio, sugli alimenti che erano presenti e questi campioni dicevano se l'alimento era conforme o non conforme. In realtà questo consentiva sì di sapere se quell'alimento era conforme, ma non ci diceva nulla su tutti gli altri alimenti che esistevano fra un campione e l'altro. Oggi la normativa europea e nazionale si sta rivolgendo verso un altro tipo di approccio, che è l'approccio per filiere. Allora, in questo caso il responsabile di garantire che il prodotto è idoneo al consumo è il produttore. Il produttore che ha un sistema di autocontrollo, conosce il suo alimento e lo fa in modo che sia sempre, tutti i giorni, idoneo al consumo. Lo Stato che cosa fa? Non è che non fa nulla allo Stato. Lo Stato verifica che questo produttore sappia quello che sta facendo e quindi che faccia degli alimenti sempre genuini, sempre buoni, sempre sani, facendo ancora dei campioni per verificare che il prodotto che è sullo scaffale in vendita sia idoneo, ma controllando anche a livello delle produzioni quelli che sono la capacità dell'operatore e di mettere in piedi un sistema che garantisca la solubilità degli alimenti. Facciamo un esempio, il latte alimentare, che per essere sicuro e per durare 4 o 6 giorni nella sua confezione deve essere pastorizzato correttamente. Allora che cosa fa il produttore? Il produttore ha degli strumenti che gli consentono di garantire che l'alimento è sicuro. Che cosa fa il controllore? Verifica a campione, passando una serie di volte durante l'anno, che effettivamente il produttore faccia quello che si è dato nel suo autocontrollo, cioè che raggiunga quelle temperature e quei tempi di pastorizzazione che garantiscono che il latte è sicuro. Ma tutto questo riuscite a ricavarlo dalle vostre analisi che fate o avete una sommatoria di dati che accumulate per poi arrivare a stabilire quanto lei ha detto? Oppure addirittura c'è anche un controllo nell'azienda produttrice? Ci sono entrambi. Il sistema funziona perché entrambe le cose ci sono. In primis il sistema di produzione degli alimenti è normato. Ogni azienda che produce degli alimenti è registrata. Quindi prima di iniziare a produrre un alimento io devo dire guarda ci sono stato, vienimi a controllare. E quindi ogni azienda è presente in un database e tutte queste aziende sono controllate. Tenete conto che il controllo non è fatto solo sul prodotto finito, ma è dato dal fatto che tutti i prodotti e l'intera filiera è conosciuta, tracciata e controllata. Cioè anche per gli alimenti che arrivano dall'estero, questi alimenti possono provenire solo da stabilimenti che hanno certi requisiti, che siano conformi ai requisiti dell'ACEE. Facciamo un esempio. Una carne che provenga dall'est d'Europa, per poter essere importata in Europa deve avere certe caratteristiche. Deve arrivare da certi tipi di allevamenti, certi tipi di macelli e poi può essere importata. Stessa cosa succede evidentemente e ha maggior ragione per gli alimenti che sono prodotti in Europa. Alimenti, per esempio, cosci di suino che provengono dal nord Europa, sono macellati, allevati in allevamenti registrati, macellati in stabilimenti riconosciuti, trasportati con automezzi idonei e poi lavorati in stabilimenti idoni, stagionati in stabilimenti idoni e poi venduti in negozi che sono conosciuti dall'autorità. In tutta la catena è possibile, anzi è doveroso e viene fatto, tutti i punti della catena sono presidiati dai vari organismi dello Stato che garantiscono la sicurezza per il consumatore. Diciamo che è bello stare a ascoltare perché impariamo noi consumatori ad approcciarci meglio a quello che compriamo. Abbiamo innescato poi interverremo con il signor Mussoni un argomento decisamente molto interessante e praticamente non dico senza fini ma potremo parlare delle ore. Poi interverremo anche su questo per l'etichettatura della carne. Un'altra battuta che mi viene da fare con lei perché comunque sono curioso e voglio sapere determinate cose. Abbiamo parlato di prodotti che vengono dall'estero. Abbiamo parlato di produttori. Abbiamo parlato di controlli ma come fate a risalire a un produttore? Oggi per esempio lei prende a campione un controllo da fare su della carne. Carne bovina penso non ci siano problemi perché c'è un'etichettatura quindi si riesce a risalire bene. La carne suina per esempio che l'etichettatura è ancora decisamente molto aleatoria anzi non inesistente? Allora tenete conto che sono due principi completamente differenti. Una è l'etichettatura della carne e far sapere al consumatore l'origine dell'animale, dove è stato allevato, dove è nato eccetera. Questo è oggi allo stato attuale obbligatorio solo per la carne bovina negli alimenti di origine animale. Cioè per la carne bovina in etichetta deve essere espresso chiaramente dove è nato l'animale, dove è stato allevato, dove è stato macellato con tanto di numero del macello e dove è stato sezionato. Cioè è ridotto in piccole porzioni. Questo è un bene per il consumatore. Questo è un bene per il consumatore ma è qualcosa di più rispetto alle nostre necessità di controllo. In realtà la normativa europea prevede un altro tipo di tracciabilità o meglio di rintracciabilità durante i vari passaggi a livello delle varie aziende nella filiera produttiva è obbligo che chi acquista un prodotto sappia da chi lo ha acquistato, quanto ne ha acquistato, che cosa ha acquistato e di che partita di prodotto ne faceva parte. Quando vende questo prodotto all'anello della catena successiva deve sapere a chi ha venduto il prodotto, quanto ne ha venduto, che cosa ha venduto e di che lotto faceva parte. Questo a che cosa serve? Questo serve che nel momento in cui io mi trovo sul mercato un prodotto che potenzialmente è pericoloso o è addirittura pericoloso l'ultimo che detiene il prodotto e l'autorità competente, lo Stato che in quel momento interviene a tutela del consumatore devono attivare un sistema di ritiro e richiamo del prodotto e avvisare tutta la filiera che c'è un problema in quel prodotto. Queste informazioni che ci devono essere tra un anello e l'altro consentono quasi sempre, anzi direi sempre, di reperire il prodotto nelle varie parti. Succede abitualmente che per problematiche intervenute nell'ambito della produzione ci siano dei ritiri, dei richiami del prodotto dal mercato. Uno potrebbe dire questa è una cosa brutta perché si toglie dal mercato un prodotto pericoloso, no, vuol dire che stiamo lavorando bene, c'è il controllo che i produttori si sono accorti che c'è un problema, è meglio accorgersi del problema e togliere il problema che fare finta di nulla. Allora quando un prodotto viene ritirato dal commercio è sintomo, è un segno che il sistema sta funzionando, vuol dire che c'è qualcosa che non va ma che si sta operando. Allora quando succede questo, abitualmente noi siamo avvisati tramite un sistema, o dalle aziende, anzi spesso da entrambi, dalle aziende e da un sistema che si chiama sistema di allerta RASP, Rapid Alert System Food and Feed, che è un sistema europeo, in cui ci dice guardate che nella vostra regione è stato distribuito questo prodotto che potrebbe avere questo pericolo perché è stato riscontrato in un altro prodotto di una partita simile a quella che avete voi. Ci viene detto guardate che questo prodotto va ritirato e quindi noi sappiamo dove andare a verificare se l'azienda ha già effettuato il ritiro perché l'anello che sta a monte rispetto a lei gli ha già detto guarda che quel problema, che quell'alimento ha un problema. E questo avviene regolarmente, noi ci stiamo rendendo conto che gli operatori lavorano bene. Quando noi arriviamo, di solito nelle 24 ore dopo che abbiamo ricevuto l'informazione, ci accorgiamo che gli operatori hanno già ritirato dal commercio questo prodotto, evitando un possibile pericolo per il consumatore. Diciamo siamo quasi in conclusione per questa prima parte, poi ci fossero altri interventi da fare quando sentiremo poi gli altri ospiti e eventualmente ci confronteremo ancora. Un concetto comune, modo di dire, è che se stiamo a guardare un po' un panorama a livello europeo, ben poco si sa degli interventi a favore del consumatore, per esempio ritirare della merce che non è idonea ad essere messa sul mercato per quanto riguarda altre nazioni. Per quanto riguarda l'Italia, non dico che quotidianamente, ma sovente abbiamo la percezione e anche visualizziamo i messaggi che ci arrivano, è stata ritirata la merce, stati attenti a questo prodotto, ci sono degli accorgimenti da tenere per quanto riguarda altri prodotti, quindi sta capitando tutto in Italia, è una cosa del genere o sotto sotto c'è un controllo decisamente più capillare e una maggior tutela al consumatore? Allora diciamo che il problema è proprio che in Italia c'è un sistema di controllo che sta tutto sommato funzionando molto bene. è forse oneroso da un punto di vista economico, ma funziona molto bene. Noi siamo i primi come nazione nel sistema RASF, cioè segnaliamo molti ritiri e richiami di prodotto, sia le aziende che il controllo ufficiale, perché anche le aziende quando trovano autonomamente un problema nell'alimento sono tenute a segnalare questo problema all'autorità di controllo e a ritirare il prodotto. In più ci sono i controlli che fanno, come si diceva prima, le autorità di controllo direttamente sul prodotto. Allora noi in Italia siamo, fra le nazioni europee, al primo posto da anni in queste segnalazioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri prodotti fanno male o fanno male più degli altri? No, semplicemente noi controlliamo parecchio. Quindi il nostro sistema di controllo fa molti campioni a tutela del consumatore e quando c'è un problema ci si attiva per cercare di risolverlo. Quindi è un sistema virtuoso. Addirittura la normativa europea prevede che il consumatore sia informato dell'azienda su quali sono i prodotti che potenzialmente sono pericolosi. Ci sono due sistemi che lavorano in parallelo. C'è quello del ritiro. Allora un'azienda si accorge che il prodotto non è idoneo al consumo perché ha qualche problema ma non è pericoloso o non è ancora arrivato al consumatore. In questo caso l'azienda non informa il consumatore perché il consumatore non lo ha ancora ricevuto. Ritira esclusivamente tramite i suoi fornitori il prodotto. Quando invece il prodotto può essere arrivato al consumatore oppure se è arrivato al consumatore ha un elevato grado di pericolo allora l'azienda è tenuta a richiamare il prodotto. Vuol dire a informare il consumatore che quel prodotto è potenzialmente pericoloso. Facciamo un esempio quello del pesto di un po' di tempo fa. Era un prodotto non pericoloso. Aveva il germe del botulino ma non aveva prodotto la tossina. Però l'azienda si è tutelata dicendo attenzione io per precauzione ritiro perché se il consumatore non ha mantenuto al freddo e il prodotto è deperito per qualche cosa potrebbe aver prodotto una tossina botulinica. Allora l'azienda ha detto ritiriamo. Ha informato il ministero, la sua USL, la regione e il ministero e hanno deciso di fare un ritiro richiamo del prodotto avvisando tutti i consumatori attraverso la stampa eccetera. Questo è un caso emblematico di un prodotto che aveva un elevato rischio per il consumatore. Dimostrazione anche della serietà dell'azienda che praticamente non dico che si mette in gioco ma fa vedere che ritira, ha un piccolo dubbio su un prodotto, ritira questo prodotto quindi possiamo dire che sono aziende coscienziose, sono aziende alle quali dare fiducia da parte del consumatore ovviamente. E poi volevo anche introdurre un'ultima battuta per quanto riguarda il sito della regione. La regione Valle d'Aosta è la prima regione in Italia che pubblica praticamente tutto quanto voi fate. Sì certo, la regione Valle d'Aosta ha per prima in Italia e diciamo seguita da poche fino adesso pubblicato sul sito della regione le allerte che coinvolgono il territorio della regione. Praticamente sul sito della regione vengono indicati gli stabilimenti o i punti vendita dove era possibile reperire dei prodotti che sono stati oggetto di ritiro o di richiamo. Questo non vuol dire che in quei punti vendita non bisogna comprare, anzi questo vuol dire che per quel singolo prodotto in quel punto vendita era stato messo in vendita quel prodotto che poteva potenzialmente avere un pericolo ma che quel prodotto è stato ritirato. Quindi i punti vendita che sono indicati in quello schema sono punti vendita cui il prodotto che è stato acquistato di quell'otto non va consumato ma sono punti vendita che paradossalmente stanno lavorando molto bene. Questo è lo scopo di quell'informazione lì. Ritiriamo un prodotto, non mangiamo quel prodotto ma gli altri prodotti di quella filiera paradossalmente sono sicuri perché tutto funziona come deve funzionare. Il prodotto è ritirato dal mercato. Che fine fa? Viene portato al macero? Viene distrutto? Chi è che se ne occupa? Chi sono le persone incaricate? Abbiamo una sicurezza che non viene tra virgolette riciclata sotto un'altra forma? Allora, anche qui ci sono diversi modi di operare a seconda del tipo di prodotto che ci troviamo di fronte. Di solito i prodotti che sono ormai in vendita e che sono confezionati vengono distrutti in quanto non vi è convenienza economica a rilavorarli o a trovare un sistema per sanificarli, per bonificarli. E questo succede nei prodotti che sono in vendita. Quindi vengono distrutti, la distruzione compete all'operatore del settore alimentare, quindi a chi ha messo in vendita i prodotti, ma viene fatta sotto la supervisione del servizio veterinario piuttosto che degli ispettori del Sian, che è l'altro servizio dell'OSL che si occupa degli alimenti non di origine animale. Quindi vengono distrutti come sotto prodotti di categoria 3 o vengono inviati all'alimentazione animale se non c'è pericolo, oppure vengono distrutti proprio tramite distruzione con il calore, eccetera. Laddove invece ci si trova in una fase precedente alla distribuzione, quindi al dettaglio, è possibile in certi casi, valutando la sicurezza per il consumatore dei prodotti, rilavorare questi prodotti e destinarli a trasformazioni, trasformarli in modo da renderli innocui. Facciamo un esempio. Io ho un prodotto, mettiamo della carne, che contiene della salmonella, che è un germe che può provocare dei disturbi intestinali anche relativamente gravi. Questo prodotto viene ritirato dal mercato. In alcuni casi è possibile che questa carne venga destinata alla lavorazione tramite cottura per produrre, per esempio, degli involtini piuttosto che qualche prodotto sicuro perché ha subito un trattamento di distruzione di questo germe. Anche qui è sempre sotto il controllo dell'autorità competente del servizio veterinario. In questo caso siamo ancora più sicuri perché abbiamo i due, l'operatore che decide che tipo di sanificazione, di lavorazione fare e il controllo ufficiale che verifica puntualmente su quel singolo prodotto che il prodotto sia salubre. Dipende da una valutazione economica per non penalizzare troppo aziende che hanno lavorato bene. Se un prodotto si può recuperare, lo si recupera. Se invece non si può recuperare, lo si distrugge.